cari amici buona festa buona giornata dell'analogista a tutte e a tutti è un piacere ritornare anche se in modalità ancora una volta online modalità che tutto sommato ci permette di essere vicini pur restando ognuno nelle proprie sedi nelle proprie dimore per celebrare questa giornata era nata in un momento di particolare difficoltà lo ricordiamo la pandemia certo assegnato un po tutti ecco che è questo un po il momento anche di condividere perché no esperienze anche esperienze per certi aspetti dolorose che però sono convinto devono aiutarci a crescere questo mio intervento ha come titolo le discipline analogiche come via alla felicità quando jefferson il grande statista americano nel 1776 ecco formulò la dichiarazione di indipendenza degli stati uniti d'america ricordiamoci erano allora solo 13 colonie ebbene ebbe in qualche maniera a dire che le 13 colonie si dichiaravano indipendenti perché perché il sovrano ecco non aveva rispettato la dignità di queste colonne colonie che fino a quel momento non rimaste legate alla madre patria e successivamente nella dichiarazione dei diritti che di fatto è la costituzione americana arriva ad affermare che ogni uomo è creato uguale da dio sappiamo la forte influenza dei puritani inglesi sulla formazione appunto delle colonie ebbene in base a questa uguaglianza ogni uomo ha diritto a tre realtà importanti che sono imprescindibili la prima di queste realtà è ovviamente la vita il secondo diritto è la libertà e il terzo sorprendentemente ecco la costituzione americana afferma essere la felicità quindi in qualche modo ogni uomo ha diritto ad essere felice e in quest'ordine stefano benemeglio con ormai un mantra che è diventato tipico degli analogisti e del mondo delle discipline analogiche ci dice che felice è colui che persegue i propri sogni in piena libertà e in pace con la propria coscienza sicuramente il periodo che ci lasciamo alle spalle e ci auguriamo sia veramente definitivamente alle spalle con la vittoria sulla sciagurata pandemia e sul terribile virus che tanti lutti ha portato in italia e particolarmente nella mia terra visto che sono di origine brisciana ecco lasciando tutto questo alle spalle dobbiamo ora guardare in avanti quando nel momento terribile dello sconforto generale quando nessuno sapeva come si sarebbe potuta concludere ecco tutta la vicenda ecco in quel terrore erano state formulate delle così delle indicazioni delle frasi delle scritte che spesso avevano adornato anche i balconi le finestre delle nostre case andrà tutto bene il fatto non è andato tutto bene ecco allora dobbiamo guardare in avanti e dobbiamo fare in modo che da ora in poi con quella esperienza possa andare tutto bene ecco per chi come me sull'esempio di stefano benemeglio come analogista riceve persone per aiutarle a trovare la serenità aiutarle in un riequilibrio emozionale si rende conto che la pandemia ha lasciato grossi segni ecco ho già visto che rispetto al passato quando i medici qualche volta di fronte a delle malattie che in qualche maniera non sapevano come giustificare ecco i medici definivano questa malattia come malattia ideopatica ideopatica vuol dire non conosco l'origine non si sa il perché di fronte a questo oggi sta apparendo tutta una serie di patologie che vengono attribuite a long covi ossia realtà che in qualche maniera si presentano come nuove per la nostra società è evidente però chi soprattutto il mondo dei giovani essendo io stato per 40 anni un insegnante di liceo ecco potete immaginare quanto i giovani mi stiano a cuore ecco si sta vedendo come la depressione dei giovani sia aumentata da alcune ricerche in italia sembra che circa 220 mila giovani ragazzi si dichiarano insoddisfatti della propria vita e si trovano in una condizione di scarso benessere psicologico abbiamo visto moltiplicarsi negli ultimi tempi fenomeni di bullismo di violenza di vandalismo ad opera di giovanissimi addirittura minorenni e questo non può essere altro che una manifestazione estrema di una sofferenza e di una irrequietezza sicuramente diffusa e certo non transitoria è ovvio che tra i campanelli di allarme ci sono sensazioni di insoddisfazione ma anche cattive abitudini sempre più presenti per esempio la sedentarietà tra i giovani l'aumento dei consumatori di alcol le condizioni di benessere psicologiche direi dei ragazzi talvolta sono peggiorate soprattutto tra le ragazze e anche il consiglio dell'ordine degli psicologi ha rilevato che i pazienti per noi analogisti sono clienti con meno di 18 anni sono aumentati ben del 31 per cento rispetto al periodo pre pandemia e vi sono segnali forti ansia depressione auto lesionismo e questi fenomeni sono lì a dire chi la pandemia ha lasciato un disagio generale ecco in tutto questo che cosa si sta facendo di fronte a questo decadimento della salute psicologica mentale dei ragazzi che cosa si sta facendo e colora che sono personalmente convinto e lo sto sperimentando che le discipline analogiche di stefano bene meglio possono davvero dare un grande contributo per migliorare un poco questa situazione di fatto il grande problema è sempre quello relativo a sapere a conoscere il perché della propria insoddisfazione del proprio malcontento ecco noi sappiamo bene che finché ogni persona in questo caso ogni ragazzo conosce il perché la causa del proprio malessere abbiamo ancora una problematica che è in parte risolvibile perché basta porre mano porre soluzione sempre che sia risolvibile ecco al problema che ha causato questa infelicità per di fatto andare verso la soluzione del problema stesso la problematica generale però ci dice che la maggior parte di questi giovani di questi ragazzi di fatto non conosce il perché del proprio malessere anzi spesso e volentieri resta in una situazione di ghettizzazione e certe volte di auto ghettizzazione di esclusione appunto del gruppo più grande per raccogliersi in gruppi più piccoli e come piccolo gruppo cercare di avere la forza per andare oltre cercare di avere la forza per trovare una soluzione magari imponendo stilemi di potenza stilemi appunto di forza che parrebbero in qualche modo poter risolvere quel malcontento quella debolezza che sta alla base appunto di questa infelicità credo che in questa situazione ecco oltre ad avere ben chiare quali sono ecco i principi della filosofia analogica abbiamo più volte ricordato che sono appunto tre realtà imprescindibili e in qualche maniera non negoziabili chiaramente la libertà il sogno la coscienza credo che in questa fase dovremmo soprattutto guardare con attenzione e oserei dire anche con fiducia ai principi della fisio analogia in fin dei conti la fisi analogia di stefano benemeglio cosa fa si occupa di curare l'anima la psiche dell'individuo e in questo caso parlando di psiche intendo dire proprio tutta la dimensione spirituale o meglio non materiale dell'uomo quindi sia la parte propriamente logica ma ancor più la parte analogica la parte emozionale e curando questa dimensione si può procedere anche a una cura efficace del proprio corpo noi come analogisti o come comunque legati alle discipline analogiche abbiamo il dovere di essere abbiamo il dovere di essere estremamente attenti a quelli che sono i così i sintomi che ci vengono in qualche maniera donati dai clienti che si rivolgono a noi il sintomo deve essere sempre rispettato il sintomo deve essere sempre ascoltato perché il sintomo non ascoltato potrebbe produrre ancora più danni è però evidente che nella visione benemegliana il sintomo è solo un campanello d'allarme il sintomo è solo lì a dirci attenzione c'è un qualcosa che non va e spetta appunto al nostro dialogo con la dimensione interiore con l'inconscio trovare e scovare la causa stessa è ovvio che tutto ciò che fa parte del nostro passato in qualche maniera rappresenta la causa del nostro malessere o benessere attuale ecco proprio perché nel momento in cui andiamo a scoprire ciò che è stato rimosso e da rimosso lo portiamo a promosso ecco che in quel momento noi possiamo arginare anche quella malattia che potrebbe aver già preso piede nell'organismo ecco di fatto la depressione è già malattia ma noi sappiamo che più che malattia è infelicità ecco allora come analogisti dobbiamo avere con grande fiducia la forza di cercare la causa di questa infelicità per far sì che la persona prenda atto di quanto è avvenuto nella sua vita possa in qualche maniera riprovare le medesime emozioni e le medesime emozioni di quando il trauma è accaduto e attraverso questo con una catarsi di freudiana memoria ma metodologicamente appunto di benemegliana tradizione possiamo arrivare a dare benessere alle persone o meglio noi aiutiamo le stesse persone a trovare in sé la forza per stare meglio certo il male fisico è sempre una minaccia incombente è sempre il frutto di compressioni di matrice emozionale sta a noi con l'ascolto attento oserei dire anche amorevole dei nostri clienti scoprire ecco la causa di questo malessere e allora davvero con grande attenzione a quello che il mondo dei ragazzi a quello che il mondo dei giovani ma con una generosità che ci porta a guardare a tutte le persone che si rivolgono a noi in questa giornata dell'analogista abbiamo il dolce dovere di far fronte a questa situazione e di essere in qualche modo degli apostoli dei testimoni per far sì che le persone possano raggiungere davvero la felicità e allora lasciatemi ringraziare in questo contesto il nostro maestro stefano benemeglio ringraziare ubda con la presidente samuella stano e tutti gli amici che insieme concorrono a rendere grande questa famiglia benemegliana e che insieme ecco vogliono in qualche maniera unirsi per migliorare il mondo vi saluto e vi auguro ancora una volta una buona giornata dell'analogista a presto